La nostra è una società senza padri. Papa Francesco richiama il pensiero comune sulla figura paterna al centro della Catechesi dell'Udienza Generale stamani in Aula Paolo VI. Il Pontefice ricorda che nella cultura occidentale si è vissuta con liberazione la scomparsa dell'autoritarismo e della sopraffazione del padre padrone, ma poi si è passati all'altro estremo, alla latitanza del padre concentrato su se stesso a tal punto da dimenticare la famiglia. Un atteggiamento che provoca nei figli un senso di orfanezza. I padri spesso, afferma il Papa, non sanno come educare, allora nel dubbio si astengono o magari si rifugiano in un improbabile rapporto alla pari. Ma anche la comunità civile ha le sue responsabilità verso i giovani, lasciati orfani per mancanze di prospettive, di lavoro, orfani di maestri di cui fidarsi, di ideali che riscaldano il cuore, di valore e speranze. Così vengono riempiti di idoli illusi del Dio denaro. Ora in questo cammino comune di riflessione sulla famiglia vorrei dire a tutte le comunità cristiane che dobbiamo essere più attenti. L'assenza della figura paterna nella vita dei piccoli e dei giovani produce lacune e ferite che possono essere anche molto gravi. E in effetti le divianze dei bambini e degli adolescenti si possono in buona parte ricondurre a questa mancanza, alla carenza di esempi e di guide autorevoli nella loro vita di ogni giorno, alla carenza di vicinanza, alla carenza di amore da parte dei padri. È più profondo di quel che pensiamo il senso della orfanezza che vivono tanti giovani. Grazie.